Ben trovato. Ben trovato a un nuovo appuntamento con Roby Extra in edicola. Il numero di febbraio del nostro mensile è il primo fermato dal nuovo direttore Emanuele Falchetti a cui do il benvenuto. Ben trovato. Grazie e ben trovati a tutti. Tante meteo come sempre e tanta neve. Sì, tanta neve nell'ospicio che ne venga ancora. Diciamo tanta neve ma soprattutto tante fotografie, tante belle fotografie di montagna. In questo numero celebriamo, come Roby fa sempre, la grande fotografia di montagna e lo facciamo con un nuovo collaboratore che mi fa piacere presentare, Federico Reiser. È uno dei nomi che nella fotografia di montagna hanno lasciato un segno perché già all'inizio degli anni 2000, assieme a Marco Milani e Alessandro Gognam, ha firmato una delle pietre miliari della fotografia di montagna che è i grandi spazi delle Alpi. Dopo una pausa è accompagnatore di media montagna e si occupa anche di divulgazione di cultura di montagna. Ha ripreso questa collaborazione con noi e ci fa piacere. Lo facciamo con due bei servizi. Uno in bianco e nero che è dedicato alla Val di Mello. Federico si è ispirato ai grandi reportage dei grandi maestri di un tempo, da Vittorio Sella ad Ansel Adams che ha fotografato la Yosemite Valley in bianco e nero ed è andato in Val di Mello per riproporre un tipo di fotografia molto particolare perché il bianco e nero va all'essenziale dell'immagine. Non ci sono persone, c'è solo questa grande natura che il bianco e nero restituisce in tutta la sua forza e intensità. L'altro servizio è dedicato ai corni di canzo. Questo è più tradizionale. I corni di canzo sono raccontati dopo una bella nevicata e lo facciamo anche legandoci alle leggende che questi luoghi evocano e i loro nomi evocano grazie anche ai testi di Maria Cristina Brambilla. Sono vicende di angeli e demoni che non sto ad anticipare però è una lettura particolarmente interessante e anche curiosa. E quindi questo è un po' il filo, quello della fotografia di montagna, delle immagini, delle grandi immagini di montagna. E conosciamo Federico proprio già anche attraverso le immagini dell'altra copertina che oltre a essere molto di impatto ci raccontano un po' di lui, delle sue attitudini. L'altra copertina dove si vede questa tendina illuminata nel buio della notte, di una notte di bivacco, la cosa particolare è proprio come lui descriva il suo modo ideale di andare in montagna, cioè dice io dormirei col sacco a pelo sotto le stelle. E questo dà un po' la misura del suo modo di fotografare, di andare in montagna, cioè un modo di vivere la montagna in maniera molto intima, che è un po' quello anche della tradizione di Orobie e di alcuni suoi storici collaboratori. Mi viene in mente Mauro Lanfranchi che aveva lo stesso modo di intendere la fotografia, cioè una fotografia fatta di attese, di bivacchi, proprio per cogliere il volto e l'immagine più suggestiva e autentica degli ambienti in cui si trova. Tornando alla Val di Mello, pareti che non hanno niente a che invidiare le grandi pareti americane, questo bianco e nero veramente risalta anche in modo drammatico questa verticalità? Sì, il bianco e nero esalta i contrasti, esalta le ombre su questa roccia, su queste pareti verticali e le restituisce in maniera drammatica, hai usato il termine giusto. Il fascino di queste immagini sta proprio in questi spazi desolati, ma comunque che invitano all'avventura e alla scoperta. Non a caso è uno dei luoghi appunto noti per l'arrampicata e dove già negli anni 60 il sassismo ha visto i pionieri dell'arrampicata italiana avventurarsi e fare la storia su alcune delle grandi pareti che si trovano in questa valle. Poi è diventata anche la valle di Mello Blocco, qui un altro modo per vivere e scoprire l'arrampicata, una cosa rivolta più alle nuove generazioni, comunque però dà l'idea di questo luogo che in qualche misura ha esercito una suggestione molto forte sul pubblico e sugli appassionati di montagna. Alla Val di Mello è dedicata anche la copertina del nostro numero di febbraio realizzata da Riccardo Scotti e una visuale diversa da quella che proponiamo ovviamente nel servizio. Ma allo scatto ce lo racconta direttamente il suo autore Riccardo Bentrovato. Buongiorno a tutti, la Val di Mello è proprio sullo sfondo, dietro vediamo il Monte Disgrazia che l'ha testata la Val di Mello, siamo dalla parte opposta della valle. Dove ti trovi? Siamo all'Alpe Tagliato, sopra Cosio Valtellino, siamo sopra Morbegno, sopra il fondo valle della Valtellina. E' proprio una gita di casa oggi, alle spalle il gruppo del Disgrazia e la Val Masina. Sono le tue montagne in una bellissima giornata? Sì, sì, la giornata è bellissima, c'è un po' di vento da nord, un po' fastidioso, infatti ci siamo messi al riparo di una baita, però il tempo splendido e il sole non fa neanche troppo freddo, anzi fa abbastanza caldo. Raccontaci un po' lo scatto che abbiamo scelto per la copertina. Sì, è stata una giornata particolare perché siamo partiti per fare la classica sella di pioda, una gita magnifica, un balmasino nella valle di Predarossa e a un certo punto c'erano veramente tante persone sull'itinerario, abbiamo deciso di uscire dall'itinerario principale, siamo passati dietro il rifugio Ponti e siamo andati un pochino a Zonzov, Pendì, fino a quando siamo arrivati poi sulla cresta di confine con la Val di Mello e lì ci si è aperto uno spettacolo anche inatteso se vogliamo. Nel momento sono riuscito a cogliere quel momento in cui proprio passavamo su questa cornice è veramente molto molto bella. Racconti che appunto stavate facendo una escursione in tanti e avete proseguito, tu non hai fermato nessuno, è stato uno scatto veramente spontaneo. Sì, esatto, perché è un po' il mio modo di andare anche di fotografare in montagna, è quello di non programmare gli scatti, di non fare niente di programmato, quindi ho sempre una camera con me a tracolla pronta e di modo che sono riuscito a cogliere il momento perché poi le inquadrature cambiano in fretta, i compagni sci alpinismo si muovono velocemente e non ho voglia mai di fermarli, bloccarli, cercare di programmare uno scatto in modo studiato. Quindi ho colto quel momento in cui proprio si passava su questa cornice aggettante sulla Val di Mello e lì sul momento non mi ero neanche proprio reso conto poi anche dell'impatto che poteva avere, della bellezza che poteva avere un'inquadratura del genere su una valle che non è sicuramente conosciuta per le gite di sci alpinismo, insomma. Una uscita che coniuga le tue passioni fotografie e montagna, e montagna che tu vivi anche da graciologo. Sì, sì, direi di sì. Diciamo che nei mesi invernali, quando l'attività più glaciologica, dei rilievi glaciologici è un po' più rallentata, continuo a muovermi in montagna, andare a visitare anche le zone che poi visito d'estate per monitorare i ghiacciai e a parte la bellezza dell'andare a fare fotografia, far sci alpinismo e tutte queste attività, c'è anche poi sempre quell'occhio sul controllo della situazione nivologica, quell'occhio sul cercare di tenere sempre un piede nella realtà e non solo nei dati al computer e cercare di continuare ad osservare l'evoluzione poi dell'innevamento, l'evoluzione della montagna durante tutto l'anno. La tua attività per il servizio glaciologico Lombardo qual è in particolare? Sì, io negli ultimi dieci anni ho fatto parte dell'operatore poi sul campo, come tutti gli altri volontari del servizio glaciologico Lombardo, mi occupo di coordinare la commissione scientifica, quindi di coordinare le attività scientifiche. In particolare negli ultimi anni mi sono dedicato molto alla divulgazione per mezzo di immagini in timelapse, di filmati in timelapse dell'arretramento dei ghiacciai e delle comparazioni fotografiche, quindi scatti prima e dopo dei nostri ghiacciai. E questa è un pochino l'attività su cui mi sono focalizzato, dopodiché coordiniamo poi tutte le attività di monitoraggio tradizionale, con bilanci di massa, misure frontali, e tutte le tecniche che si usano per misurare lo stato di salute dei ghiacciai. E lo stato di salute è ovviamente preoccupante? Beh, direi di sì, soprattutto a causa dell'aumento delle temperature a livello planetario, che nelle Alpi provocano un'accelerazione di questo incremento delle temperature, e soprattutto negli ultimi due anni abbiamo avuto due anni estremamente negativi, in assoluto i più negativi da quando si rilevano i dati, per cui che ha nevicato molto poco in inverno e ha fatto estati estremamente calde. E soprattutto purtroppo i ghiacciai che necessitano invece di forti nevicate per riuscire a resistere, come i ghiacciai delle Orovie, hanno subito dei ritiri veramente mai visti da quando si rilevano i dati, da più di un secolo, insomma. Che inverno è per ora? Ma per ora diciamo che l'innevamento è sicuramente migliore, leggermente migliore rispetto agli ultimi due anni, che sono stati molto, molto negativi. Purtroppo, dico purtroppo, alle quote più basse, le forti precipitazioni di ottobre sono state sotto forma liquida. Nelle Orovie ha piovuto tantissimo, grossi quantitativi, ma purtroppo in gran parte dei casi ha piovuto fino sulla vetta del coca, e quindi ha ridotto un pochino la potenzialità di accumulo, insomma c'è un po' meno neve di quella che ci si poteva aspettare. Alle quote più elevate, sopra i 3.000 metri, dove anche ottobre e novembre è nevicato praticamente sempre, abbiamo degli accumuli che sono più consistenti e di sicuro raggiungono la media storica. Sotto siamo ancora indietro, insomma, non è sicuramente una stagione nevosa fino adesso. Speriamo che da qui in avanti incominci a nevicare, incominci ad accumulare neve. Posso chiedere io una cosa a Riccardo? Riccardo, c'è questa pratica di coprire alcuni ghiacciai con questi teli che li riparano durante la stagione più calda. È una cosa utile o è proprio un pagliativo, un gesto un po' estremo per salvare quello che c'è? Come la vedi? Insomma, io con altri decine e decine di glaciologi in Italia abbiamo scritto una lettera per denunciare il cattivo messaggio che danno queste tecnologie, questo tipo di soluzioni, perché essenzialmente al netto che ovviamente stendere un telo che rifletta la radiazione solare rallenta la fusione della neve, questo è qualcosa che conosciamo ed è abbastanza appurato. Al netto di tutto ciò è ovvio che si tratta di tecnologie che non possono minimamente essere stese a superfici che non siano superfici limitatissime, in contesti già antropizzati come possono essere le zone dove ci sono impianti da sci. E quindi, insomma, il problema è che queste tecnologie danno un messaggio estremamente dannoso e sbagliato poiché si pensa che grazie a queste tecnologie si possa risolvere il problema dell'arretramento dei ghiacciai e ancora peggio magari anche quello del riscaldamento globale, quando invece sono essenzialmente dei pagliattivi assolutamente non applicabili su larga scala. Quindi, diciamo, del tutto inutili se non per preservare una pista da sci essenzialmente, ecco. Chiaro. Grazie mille Riccardo. Bene. Grazie Riccardo. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao. Siamo di nuovo insieme a Orobie Extra, stiamo sfogliando il numero di febbraio in compagnia del direttore Emanuele Falchetti. Torniamo alle mete e ai servizi appunto che troviamo sul nuovo numero in edicola, ancora montagna con la Rera. Sì, è una delle due gite sci alpinistiche che proponiamo. La Rera è una montagna che conoscono, i bergamaschi conoscono bene, tra la Valparina e la Valle del Riso. Ed è una gita sci alpinistica consigliabile perché si presta davvero un po' a tutti. Cioè fino a Cappanna 2000 è una gita davvero per tutti, oltre fino alla vetta diventa più impegnativa. Luca Merisio la racconta in prima persona, visto che c'è stato personalmente. Ce la restituisce con delle bellissime immagini e appunto con tutte quelle avvertenze per usufruirne, per provarla e testarla in piena sicurezza. L'altra gita sci alpinistica è quella alla Cimavignone, qui siamo in Valtellina, sopra Vuglio in Monte, siamo tra Morbegno e Sondrio. E questa è una gita diversa perché offre queste vedute. Il titolo è in Volo sulla Valtellina proprio perché da questo versante, questa diciamo cresta, non è una cresta, è un versante abbastanza percorribile, però molto aereo. Da queste vedute che spaziano sulle Orobie e sembra quasi appunto di volare. E queste sono un po' le due gite che ci auguriamo si possano praticare con la neve che è arrivata e che speriamo arrivi ulteriormente. Bellezze poi vicino a casa con la Madonna del Castello. Sì, sono quelle mete, quelle scoperte che Orobie ama particolarmente perché invitano a guardare il territorio nelle sue pieghe. La Madonna del Castello è un complesso monumentale e religioso di grande importanza che racconta duemila anni di storia e è davvero molto articolato. Noi ci siamo fermati su un dettaglio che è questo pulpito del XII secolo. È un pulpito nella parte romanica del monumento e racconta appunto della religiosità e del mondo, della spiritualità di questo luogo. Che tra l'altro proprio all'inizio di febbraio si celebra uno dei suoi momenti più partecipati e attesi che è quello della Madonna Candelora con la grande festa che si celebra sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista un po' più pagano con la sagra, con le bancarelle sul sagrato. E quindi è un ulteriore spunto per andare a scoprire questo monumento e in particolare, ripeto, questo pulpito romanico che è davvero particolare. L'altra piega del territorio che andiamo a scoprire è quella inogastronomica che riguarda i colli di Bergamo, sui quali si continua a coltivare questa scarola, che è un tipo di indivia. E anche qui è una tradizione, una forma di coltivazione quasi eroica perché restano in pochissimi a coltivare questa verdura sui colli, che è una verdura tipicamente invernale e che appunto i protagonisti hanno illustrato nella loro fase di produzione molto particolare perché una volta raccolta viene messa diciamo nelle cantine al buio a sbianchire e il risultato è questa verdura molto croccante che poi viene utilizzata anche in diverse ricette che Silvia Tropea Montagnosi poi è andata a scoprire in un ristorante in città alta e racconta come alla fine si può trovare sul tavolo oltre che in insalata. Eroica anche perché è completamente manuale questa coltivazione. Assolutamente manuale. I coltivatori la trasportano ancora adesso con le gerle sui colli quindi è una forma tradizionale che aiuta anche a capire come questo territorio, come i colli sono stati modellati proprio da questo tipo di coltivazione insomma queste balze, questi pendii che sono stati resi coltivabili e quindi c'è proprio questa fusione tra l'uomo e la natura che dà questo risultato dal punto di vista paesaggistico molto molto bello. Andiamo poi nell'Alto Garda per il nostro viaggio nella Lombardia Verde. Sì, è un viaggio che affrontiamo a tappe come di consueto e riguarda i parchi regionali. Qui siamo nel parco dell'Alto Garda ed è un parco che offre questo duplice volto. Da un lato la costa che tutti conosciamo perché è molto frequentata, forse anche troppo frequentata e di contro questo entroterra, questo altopiano che invece offre un ambiente molto selvaggio. c'è la foresta di Magnale più ampia di Lombardia e che forse avrebbe bisogno di una fruizione maggiore proprio per essere conosciuta e anche avere più, diciamo, offrire a chi la vive più risorse per continuare a popolarla. Insomma, è un po' questa ambivalenza che noi guardiamo, scopriamo anche attraverso un itinerario, innanzitutto come di consueto proviamo un itinerario, ma poi anche attraverso la proposta di un balcone panoramico che è quello di Cima Comer che è sopra Garniano e che consentirà ai lettori a quanti vogliono provare questa nostra proposta di itinerario, di guardare Al Garda e a questo territorio da un balcone davvero privilegiato. E riguardo al percorso abbiamo come sempre la nostra scheda. L'itinerario permette di passare in breve tempo dalle sponde lacustri ai paesaggi collinari e di comprendere come l'isolamento di questi luoghi in passato non fosse circoscritto agli ambienti in quota ma riguardasse anche i centri rivieraschi. Si parte da Campione sul Garda, l'unica frazione di Tremosini che si affaccia direttamente sul lago, sovrastata dalla parete del Monte Cassa. Lasciandoci alle spalle l'ex villaggio operaio si prende la vecchia statale gardesana Sentiero 150. Costruita fra il 1929 e il 1931, fortemente voluta da Gabriele D'Annunzio, oggi è percorribile solo a piedi. Le strette gallerie scavate nella roccia e gli scorci panoramici caratterizzano questo primo tratto. Si avanza fino a incontrare l'indicazione del sentiero 141. In breve tempo si scende a porto. Noi prendiamo la salita verso Pieve, raggiungibile in 50 minuti attraverso tortuosi tornanti, moretti a secco e boschi di leccio. Il sentiero è indicato per escursionisti esperti, ma non presenta particolari difficoltà. Fino agli inizi del secolo scorso, la scoscesa mulattiera era l'unica via che collegava l'altopiano al lago e al suo porticciolo, dove giungevano tutte le merci trasportate poi a dorso di mulo. L'isolamento terminò nel 1913, quando fu costruita la spettacolare strada della Forra tra le più belle carrozzabili d'Europa. Comodi scalini addolciscono la salita. In alcuni punti ci sono anche dei passamano in acciaio. Diversa era la situazione quando zoccoli in mano da qui passavano gli operai diretti al cotonificio Olcese. Dopo aver affrontato un dislivello di oltre 400 metri, al termine della scarinata, si raggiunge la terrazza con una strepitosa vista a strapiombo sul lago e sul Monte Valdo. Da pieve di Tremosine si può rientrare al punto di partenza percorrendo a ritroso lo stesso percorso, prestando attenzione alla discesa, oppure prendendo il sentiero 142 fino a Pregasio, circa 40 minuti in parte su strada asfaltata, quindi il 110 che addentrandosi nella Forra del San Michele riporta a campione sul Garda in altri 50 minuti. Emanuele, quindi un numero con proposte veramente dalla montagna alle zone più vicino alla pianura, alle città? Sì, un numero come al solito molto vario e adesso speriamo che i lettori apprezzino. Nel frattempo noi continueremo, stiamo preparando il numero di marzo e quindi andiamo avanti, diamo appuntamento a quest'altro numero che tra un mese ci aspetterà qui e in edicola. Grazie Emanuele, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. A settimana prossima. Grazie a tutti.